Musica Seconda edizione di Oratg, bentrovati a voi tutti. Apriamo il giornale parlando di costruzioni, sia infrastrutture pubbliche che costruzioni private. Lancia l'allarme l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, Lancia, per il caro materiale che si è esponenzialmente aumentato, il caro materiale con aumenti esponenzialmente gravi e costanti nel corso degli ultimi mesi e anche nelle ultime settimane. Questo metterebbe addirittura a rischio anche i cantieri, secondo quanto denunciato dall'Associazione. Vediamo. È un allarme globale, complessivo, che unisce stavolta il paese, da nord a sud, da est a ovest. Il settore delle costruzioni, sia nel campo pubblico che in quello privato, rischia il fallimento, a causa dell'impennata dei prezzi e per la difficoltà di reperimento dei materiali, senza i quali di fatto le maestranze rimangono a braccia concerte. L'allarme è del Lancia, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che parla di situazione fuori controllo, sottolineando come le misure varate finora non abbiano in alcun modo arginato quella che sembra essere una vera e propria emergenza. C'è rischio persino che il PNRR rimanga, in massima parte, una sorta di scatola dalle belle intenzioni, chiusa però nello scantinato a causa dell'aumento dei prezzi del bitume, dell'acciaio e dell'alluminio, mentre tutti gli altri materiali scarseggiano o sono troppo cari. Da un lato la crisi energetica, dall'altro lato la guerra in Ucraina, e dunque una fase di instabile contrattazione geopolitica nei mercati, rendono il sistema fragile, malgrado lo stesso sistema, si è ripartito dopo la pandemia, non senza difficoltà ma grazie ai superbonus. Purtroppo stiamo assistendo proprio in questi giorni, oltre a quello che era successo l'anno scorso, con l'aumento eccezionale di tante materie prime che per noi sono fondamentali per il nostro settore, negli ultimi 15 giorni si sta verificando la tempesta perfetta, perché c'è un incremento eccezionale dal gasolio al bitume all'acciaio, tutte le materie prime che per noi sono fondamentali per il mondo delle costruzioni, ma aumenti che hanno sfiorato il 300%, siamo arrivati a numeri, e non solo a numeri esagerati, il problema è che le acciaierie stanno chiudendo, gli impianti di conglomerato binominalo stanno chiudendo, le nostre aziende sono chiamate a rispettare i contratti, andare a prendersi le consegne dei lavori, a iniziare i lavori, e non lo possono fare, perché oggi i lavori rispetto a un mese fa, che già erano cari, oggi sono impossibilitati a farli, perché i prezzi si sono triplicati. Servono dunque misure vere di emergenza per salvare dal disastro un settore che più di tutti ha garantito la ripresa del paese e della Sicilia, immettendo di fatto denaro fresco in circolo. E quindi abbiamo chiesto, stiamo chiedendo, l'ha fatto l'Angela nazionale, l'ha fatto l'Angela regionale, abbiamo lanciato questo grido di allarme per sensibilizzare le amministrazioni ad avere un po' di rispetto per le aziende che stanno lavorando, insomma un po' di permettergli di affrontare questa situazione in maniera diversa, ma serve un provvedimento legislativo importante, che non può essere il provvedimento che è stato fatto l'anno scorso per il caro materiali, che ancora le aziende per il ristoro dei primi semestri non hanno preso niente. Per il secondo semestre, da giugno a dicembre, ancora devono uscire il decreto con la rilevazione dei prezzi. Quindi questo significa che per quest'altro semestre, che è iniziato ora a gennaio, non si sa quando se ne parlerà. Il problema nostro è che il materiale lo dobbiamo comprare oggi, il gasole lo dobbiamo mettere oggi nei mezzi e non possiamo più andare in cantiere. Quindi stiamo ragionando di fermarci perché è impossibile poter continuare a lavorare. Il mercato peggiora di giorno in giorno, ormai è fuori controllo dunque, per questo motivo occorre che le stazioni appaltanti applichino un adeguamento automatico dei prezzi delle forniture dei materiali e valori correnti del mercato. Ma in questo modo i lavori del PNRR ce li possiamo dimenticare, non li potrà fare nessuno. E il Codacon si appresenterà un esposto alle nove procure della Repubblica Siciliana e all'autorità grande della concorrenza, chiedendo di indagare sugli abnormi rincari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa e su possibili speculazioni in atto a danno di consumatori e imprese. Cronaca è finita agli arresti domiciliari una musicista palermitana, indagata per istigazione alla corruzione, avrebbe promesso una tangente ad un collaboratore dell'assessore regionale al turismo, che però ha denunciato tutto. E' finita agli arresti domiciliari. La musicista palermitana Marianna Musotto, 36 anni, indagata per istigazione alla corruzione. Il provvedimento è stato emesso dalla GIP della Tribunale di Palermo su richiesta della Procura. La donna è accusata di aver promesso una tangente da 50.000 euro per un evento musicale. I fatti fanno riferimento all'aprile del 2021, quando un intermediario contattò il capo della segreteria particolare di Maglio Messina, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Raul Russo, proponendo un progetto per un evento che prevedeva una sponsorizzazione della regione per 500.000 euro. Inutile la precauzione attuata di proporre il tutto con un messaggio che si autodistruggeva. I fatti sono venuti comunque alla luce, denunciati successivamente dallo stesso assessore Messina, che in una nota ha affermato di aver fatto soltanto il proprio dovere, cioè di denunciare chi voleva pagare una tangente. Sono cose spiacevoli, ha aggiunto l'assessore al turismo. Speriamo soltanto che tutto ciò possa servire anche da monito, scoraggiando in via definitiva chi intende perseguire strade similari. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, che nei mesi scorsi hanno effettuato anche alcune perquisizioni, sequestrando telefonini e computer. L'inchiesta è coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio De Montis e non è escluso che sulla stessa possono esserci ulteriori aggiornamenti in seguito. Adesso il quotidiano aggiornamento sull'evoluzione della pandemia da Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto diramato dal Ministero della Salute, sono 5.335 nuovi casi Covid in Sicilia, circa 100 in meno rispetto alla giornata odierna, ma con 31.000 tamponi processati ieri, quasi 2.000 in più. Il tasso di positività dunque oggi sale nella nostra isola di un punto e passa dal 16,2% al 17,2% di oggi. I morti sono purtroppo 7, un numero assai basso rispetto a quanto registrato nelle ultime settimane o comunque dall'inizio dell'anno. Il totale delle vittime siciliane del virus dall'inizio della pandemia sale così a quota 9.728. Negli ospedali i pazienti ricoverati per Covid sono oggi 896, meno 37 rispetto a ieri, di cui 828 in area medica, meno 40 e 68 in terapia intensiva, dunque più 3 rispetto a ieri, con 7 nuovi ingressi. In Sicilia sono al momento Covidizzati 224.332 persone, mentre oggi sono state dichiarate guarite 5.623 pazienti. Per quel che riguarda il conteggio nelle province, segnaliamo Palermo con 1.762 nuovi casi, poi Agrigento con 826, Trapani 750, Catania 697, Messina 692. A Giara adesso nel Catanese, gravi danni riscontrati all'esterno e all'interno della sala Messina, ex pescheria ubicata in via Caldera e a Giara appunto, situazione che ha determinato lo spostamento della manifestazione marzo in rosa che si terrà invece all'interno della biblioteca comunale. La mara scoperta fatta dall'assessore alle politiche sociali durante uno sopralluogo in cui è emerso il caso adesso oggetto di un'indagine conoscitiva. Un'enorme discarica di rifiuti e materiali ingombranti dinanzi l'ingresso della sala Messina, ex pescheria di via Caldera e a Giarre, un tempo punto di riferimento della città per incontri e conferenze. Questa solo la punta dell'iceberg scoperto dall'assessore alle politiche sociali, Giussi Savoca, recatasi sul posto in sopralluogo per verificarne lo Stato in previsioni di allestire all'interno e negli spazi esterni della struttura le postazioni mediche della manifestazione marzo in rosa. Ma nulla di tutto questo si è potuto fare, qui, dopo la mara scoperta dell'assessore che si è trovato davanti uno scempio. Numerosi e molto gravi i danni riscontrati nella struttura polifunzionale per i quali, ha precisato il sindaco Cantarella, immediatamente allertato, l'amministrazione si riserva la quantificazione e l'eventuale contestazione oltre all'avvio di una indagine conoscitiva. Impianti elettrici e audiovisivi manomessi, pareti ricoperte da pannelli di stoffa, tubazioni di servizi e apparecchi igienici ostruiti, VC in condizioni di estrema sporcizia e degrado. Danni che sono stati riportati in un verbale in presenza dei responsabili dell'associazione che ha avuto in affidamento l'ex pescheria e del sindaco Leo Cantarella intervenuto sui luoghi unitamente a personale dell'ufficio patrimonio dell'area tecnica per un'accurata ricognizione nei locali interessati affidati al tempo dell'amministrazione d'Anna ad un'associazione che ha già declinato responsabilità senza alcun verbale di consegna. Si è dovuto così trovare un'altra sede per tutte le attività di screening della manifestazione Marcio in Rosa che si sta svolgendo attualmente nei locali della biblioteca comunale. Perché purtroppo abbiamo trovato una situazione all'ex pescheria che non era compatibile con ciò che volevamo fare. L'ex pescheria dovrà subire delle sistemazioni, dei lavori e quindi abbiamo deciso di spostare tutto alla biblioteca comunale. Ma il caso non si chiude qui, afferma il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barbagallo. La vicenda, già oggetto di un'accesa interrogazione consigliare, sarà esaminata in Consiglio. La sala Messina non ha in questo momento i requisiti per poter essere aperta al pubblico. I servizi igienici non sono stati trovati in condizioni adeguate. Anche i muri presentano numerose situazioni di piccole criticità che vanno risolte anche per una questione di decoro. Mi auguro che presto questa bella sala, che un tempo era il punto di riferimento per chiunque aveva a cuore di fare delle conferenze, di creare degli eventi, potrà tornare fruibile alla città e con tutti i suoi impianti ripristinati. Da Giarre ad Acireale, dunque rimaniamo in provincia di Catania, ad Acireale dove è da rifare del tutto il concorso per vigili urbani. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, infatti, accogliendo il ricorso di due partecipanti, ha sospeso la gradatoria, evidenziando violazioni da parte della Commissione Esaminatrice. Il Comune ha annunciato che presenterà ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativo. Il Tribunale Amministrativo di Catania ha annullato il concorso dei vigili urbani di Acireale contestando nel merito la procedura da parte della Commissione Esaminatrice che avrebbe omesso criteri normativi di valutazione degli esaminanti durante la prima prova scritta relativa agli aspetti pratici e operativi. Un centinaio di partecipanti che lo scorso novembre hanno preso parte a concorso per rotto agenti della Municipale indetto dal Comune. Tutto da rifare, secondo i legali dei due ricorrenti esclusi dalla prima prova scritta, che hanno sollevato la questione di legittimità concorsuale, così come imposto dal regolamento dei concorsi pubblici. L'inghippo nasce dalla mancata comunicazione ai partecipanti dei criteri di valutazione con attribuzione del punteggio verbale della medesima prova che il Tribunale giurisdizionale ha ritenuto valide sospendendo la fase successiva della selezione e ordinando al Comune di Aceriale di ripetere la prova scritta per tutti i concorrenti. Pronto è ricorso al CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo da parte degli avvocati del Comune per i quali non sussisterebbero i motivi ostativi e quindi la prova resta valida. Al momento dunque il concorso per l'inserimento in pianta organica dei previsti otto agenti della Polizia Locale rimane congelato in attesa dell'accoglimento o rigetto del provvedimento di appello innanzi il CGA. La notizia della presunta violazione dei termini concorsuali, sospensione della gradatoria con sentenza della seconda sezione del Tare di Catania Presidente Francesco Brugaletta ha scosso il Palazzo di Città che ha sentito il parere dei legali e della segretaria generale e sta preparando le contromosse. L'assessore accontenzioso Mario Di Prima ha sentito i dirigenti incaricate e espresso fiducia sull'accoglimento del ricorso da parte del Comune di corretto espletamento del percorso concorsuale così come stabilito dalle norme che disciplinano la materia. C'è un procedimento giudiziario che è stato intentato relativamente al concorso per vigilurbani che è stato svolto nel nostro Comune e un primo grado è andato in senso sfavorevole al Comune ma i legali incaricati ci dicono di essere fiduciosi e di avere un cauto ottimismo per quanto riguarda un esito favorevole della procedura in quanto nel merito il tutto andrebbe in senso positivo nei confronti del Comune ma ci sarebbero soltanto delle imperfezioni dal punto di vista formale e anche dal punto di vista della procedura giudiziaria esprimono un cauto ottimismo nel proseguo del giudizio e nei successivi gradi del giudizio. Sembrerebbe appunto che le contestazioni riguardino esclusivamente degli aspetti meramente formali e per quanto riguarda invece il merito e la sostanza soprattutto ecco l'aspetto del merito è un aspetto fondamentale e importante per quanto riguarda l'interesse della pubblica amministrazione invece per quanto riguarda questi aspetti ecco la procedura e il procedimento sarebbe un procedimento conforme a quello che è l'interesse pubblico. Con due distinte assemblee dei rispettivi consigli di amministrazione avvenute congiuntamente a Palazzo degli Elefanti con la partecipazione del Comune socio unico detentore al 100% delle azioni è stato decretato il passaggio decisivo della fusione per incorporazione delle aziende partecipate Sidra e Catania Rete Gas dalle due aziende partecipate nasce Sidrag S.p.a unico gestore per l'esercizio e la distribuzione dell'acqua e della Rete Gas nel territorio di Catania con le intuibili convergenze gestionali ed economiche la decisione si colloca nel piano di intervento per la razionalizzazione del perimetro pubblico controllato dal Comune di Catania che ha già portato alla fusione per incorporazione di AMT e Sostare un programma di azioni sancito nel novembre 2018 con una delibera della Giunta preseduta da Salvo Pogliese che su proposta del Vice Sindaco e Assessore alle partecipate Buonaccorsi ha formalizzato la proposta di riforma delle società in house al Consiglio Comunale che poi venne adottato delibera che poi venne adottata il mese successivo dunque con il verbale diffusione delle due aziende pubbliche viene dato mandato al Presidente di Sidra Fabio Fatuzio e quello di Catania Rete Gas Gianfranco Todoro di dare esecuzione alla delibera assunta fermo restando la garanzia di tutela dei posti di lavoro con l'applicazione dello stesso contratto collettivo nazionale del comparto gas-acqua ai dipendenti delle due società L'assessorato regionale alle infrastrutture ha stanziato un milione di euro per la riqualificazione del campo di Via Grande il complesso sportivo sarà polifunzionale il rettangolo di gioco dotato di erba sintetica poi tribuna coperta in grado di accogliere duemila spettatori Dalla regione un milione di euro per il rifacimento dal campo sportivo comunale di Via Poio a Via Grande il progetto modifica radicalmente la struttura esistente realizzata negli anni 70 che sarà polifunzionale e ampliata nell'offerta a cominciare dalla nuova copertura dalla tribuna centrale e dal numero degli spettatori sugli spalti il rettangolo di gioco sarà dotato di manto sintetico a norma e di pista di atletica valorizzati anche gli spazi a verde con un settore di attrezzistica per fitness all'aperto 6 le aree previste nuovi anche locali spogliatoi il campo comunale russo una volta ultimato potrà ospitare diverse discipline di carattere ludico ricreativo oltre al calcio soddisfacendo le esigenze della locale società calcistica che milita nel campionato di eccellenza e da tempo chiedeva l'adeguamento del vecchio complesso sportivo nel corso di un sopralluogo il sindaco Franco Leonardi e l'assessore allo sport Mauro Ricciardello hanno evidenziato come gli interventi avviati in parte ultimati nelle altre strutture sportive del comune pedemontano a completamento di un interiniziato durante la prima sindacatura Leonardi impegnata nella ricerca di fondi pubblici per restituire la piena funzionalità agli impianti sportivi del territorio comprese le palestre degli istituti scolastici che necessitavano di interventi di sistemazione e aggiornamento estendendo la capacità alle altre discipline agonistiche con questo ulteriore finanziamento si adegua radicalmente l'impiantistica comunale che sarà polivalente, moderna e sicura è un progetto che riguarda un po' tutto il rinnovamento di questa struttura sportiva che non è solamente un rettangolo di gioco ma comprende anche, come avete avuto modo di vedere anche una pista e da lì vogliamo partire quindi riqualificare nuovamente il campo sportivo con un manto in erba sintetica rifare nuovamente l'anello quindi per dare la possibilità ancora meglio perché già viene utilizzato anche da molte signore al mattino che fanno attività sportiva quindi la corsa oppure la normale camminata in questo spazio di gioco quindi anche perché è anche tenuto discretamente bene e perché insomma è anche al di fuori dai rischi che si possono correre lungo le vie del paese perché insomma cani di randaggio o quant'altro a volte quindi possono creare questo tipo di paura e quindi rifaremo questo anello che ripeto che permetterà quindi questa pista di atletica perché no si potrà utilizzare anche per fare del pattinaggio e riqualificheremo anche l'impianto per quanto riguarda gli spogliatoi il rifacimento delle tribune con la copertura quello che necessita e tra le altre cose è stato anche previsto attorno al campo di gioco quindi in questi spazi che vedete a verde di riqualificarli con fare di un'area di urban fitness L'assessore allo sport Mauro Ricciardello da sempre sostenitore della squadra di calcio locale commenta con soddisfazione il finanziamento che consentirà di riqualificare il comunale e di renderlo pienamente fruibile Siamo stati abili a realizzare questo sogno si può dire che è realizzato il sogno perché abbiamo avuto questo finanziamento di un milione di euro che spenderemo in questo stadio in questo campo io lo chiamo stadio per l'ampiezza per le tribune per la pista di atletica e per tutto il resto che servirà ai nostri giovani e a tutte le nostre famiglie di andare a praticare sport in questo inviando sportivo che sarà completo di tutto Verifica urgente nei calanoni fluviali in territorio di Fondachello di Mascali il sindaco Luigi Messina ha chiesto l'intervento della Capitaneria per evitare sversamenti regolari in mare Con l'approssimarsi della stagione estiva l'amministrazione comunale di Mascali resta assai vigile su quelle che sono le problematiche legate alla fluibilità del mare in totale sicurezza A tal proposito il primo cittadino Luigi Messina sollecita la Capitaneria per un controllo attento dei canaloni presenti nel territorio di Fondachello di Mascali La verifica dovrà chiarire se gli stessi contribuiscono ad immettere acque non limpidissime nell'azzurro mare della frazione mascalese un lavoro capillare che va a braccetto con l'attenta verifica del corretto funzionamento dei depuratori della zona Noi come amministrazione in questi anni abbiamo fatto delle lotte verso luoghi come l'Alcandara come i depuratori di giardini le Toianne abbiamo monitorato sempre il nostro depuratore a Mascali perché vogliamo un mare pulito e il mare pulito passa da un controllo di tutte queste strutture ma anche dei nostri luoghi e nei nostri luoghi a Fondachello abbiamo una peculiarità che è importante che dà certamente un risvolto anche positivo con tutte quelle che possono essere le problematiche all'interno del sistema e sono questi canaloni che abbiamo all'interno dell'area di Fondachello ma in questi canaloni ci siamo accorti negli anni che probabilmente ci sono degli scarichi abusivi che creano del danno e che poi vanno a sfociare al mare pertanto stiamo monitorando per capire se questo è vero e come amministrazione insieme ai nostri uffici abbiamo chiesto aiuto anche alla Capeterria di Porto perché il capitano e il gruppo della Capeterria sta facendo anche un bel lavoro sull'Alcandara e il loro supporto la loro esperienza per noi è importante tant'è vero che ieri i nostri uffici insieme alla Capeterria di Porto hanno iniziato questo tipo di controlli sono state fatte delle segnalazioni dobbiamo fare delle rimozioni di strutture delle sovrastrutture che hanno messo nei canaloni per poter fare dei controlli migliori e più approfonditi questo dovrà garantire ulteriormente un mare pulito nella nostra amata Fondaghello e Sandanna già la scorsa estate abbiamo visto dei risultati eccellenti perché per buona parte del tempo il mare è stato pulito però noi vogliamo raggiungere il massimo perché se abbiamo il mare pulito significa far crescere la nostra economia e il nostro turismo questi canaloni sfociano a mare? questi vengono raccolti tutti per un sistema che fu realizzato negli anni 50 perché questa era un'ex palude e pertanto sono state convogliate in questi canaloni perché ci sono delle sorgive proprio sono delle sorgive della nostra amata Etna e queste sorgive vengono convogliate in questi canaloni che poi vanno fino al mare che sono una risorsa devono essere una risorsa per quest'area però in alcuni casi probabilmente ci sono dei fabbricati che magari invece di utilizzarli per quello che è l'aspetto positivo li utilizzano come discariche pertanto noi stiamo analizzando insieme a queste sovrastrutture le criticità che ci possono essere all'interno di questo sistema dopo 20 anni si rinnova la convenzione tra il corpo forestale della regione siciliana e il comune di lingua glossa per l'utilizzo della storica caserma donna vita costruita negli anni 50 a 1250 metri di altezza su un mare in una posizione strategica si riconferma dopo 20 anni la convenzione tra corpo forestale della regione siciliana e il comune di lingua glossa per l'utilizzo della caserma donna vita il rinnovo del protocollo d'intesa firmato nel 2002 tra i due enti darà continuità al prezioso lavoro di soccorso montano svolto dal corpo forestale della regione siciliana nella sede dell'antica caserma costruita negli anni 50 situata a 1250 metri in una posizione strategica in seguito all'accordo dei primi anni 2000 la storica sede è stata ristrutturata con un cospicuo finanziamento regionale in virtù del suo valore storico strategico e operativo un presidio di sicurezza che adesso afferma il dirigente generale del comando del corpo forestale Giovanni Salerno si sta cercando di attrezzare e rinvigorire con la presenza di nuovo personale negli anni il stato continuerà a essere una location decenata al corpo forestale per quanto riguarda il soccorso montano il personale da questa postazione può benissimo governare tutte le attività della zona credo che il soccorso montano debba essere rinvigorito ancora di più con la presenza di altro personale stiamo cercando di attrezzarlo nel migliore dei modi possibile perché oltre che tutelare l'ambiente e il territorio è chiaro poi pensiamo anche a salvaguardare le persone l'intesa rinnovata è il proseguimento di un impegno comune per la tutela e salvaguarda del nostro patrimonio naturale afferma il sindaco di lingua glossa Salvatore Puglisi soddisfatto del lavoro congiunto svolto da sempre in sinergia tra comune e corpo forestale è un presidio dico sempre di legalità di sicurezza e continuare questa collaborazione tra amministrazioni pubbliche credo che sia importante anche per il cittadino per il turista e per la tutela del territorio lo abbiamo fatto con lo spirito di sempre una leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche utile a migliorare sicuramente i servizi che sono presenti a Etnanoord e anche alla tutela di questo patrimonio molto importante è un territorio di montagna però è una montagna su un vulcano attivo e quindi è chiaro che quello che si fa qua sopra viene classificato sempre con una particolarità che è quella di lavorare su un territorio che ti mette davanti rischi molto particolari ed è chiaro che l'addestramento fatto qui è un addestramento speciale e particolare il corpo forestale devo dire in questi anni ha sempre migliorato e professionalizzato le persone adesso c'è la possibilità di incrementare l'organico e farli addestrare in questo territorio tutela ancora di più diciamo la salute dei cittadini e la sicurezza dei cittadini dal 13 marzo al 13 maggio il Castello Ursino di Catania ospiterà all'esposizione Francesco Contraffatto una mostra affettiva promossa dal comune di Catania e dagli eredi dell'artista doppio 13 noi come famiglia di questo autore ma anche tantissimi amici e istituzioni ci hanno dato dei prestiti per poterla mettere in campo chi era Contraffatto noi conosciamo le tante tantissime opere di Contraffatto ma lei si è soffermato davanti a un piccolo quadro se vogliamo sua mamma vista da dietro sì 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 è perché era la chiave di tutto la chiave di tutto perché queste figure così forti così poliedriche se stanno al mondo stanno al mondo è vero con questo dono di natura che hanno avuto il pittore lo scultore il musicista ma quella donna accanto forse ritratta da dietro in modo diciamo psicologicamente potremmo scrivere dei tomi era la chiave di tutto era il pilastro vero Francesco Contraffatto la mostra affettiva è certamente una mostra divisa in quattro sezioni pittura, scultura, scenografia, incisione ma anche il racconto di un uomo di una persona di un artista che sin dalla giovane età 13 anni ha raccontato il sentimento di una generazione di un popolo di una città tutto divenuto spettacolo del quotidiano l'hanno definita gli eredi una mostra affettiva o una mostra affettiva per la città non è un caso che l'abbiamo fortemente voluta insieme agli eredi qui nel museo civico Castellursino un artista che ha vissuto ce lo racconta in questa straordinaria mostra allestita anche con la collaborazione del teatro stabile con tutte le tecniche con tutti questi 87 anni vissuti in pienezza Francesco Contrafatto già parlava di bene comune penso al primo giorno in cui mi sono seduta nella sala di Palazzo Elefante e disse all'architetto Contrafatto dobbiamo riportare tuo padre e condividerlo anche con le giovani generazioni che devono anche scoprire questa etniade come il critico l'ha definita questa mostra questa catanesità raccontata da Contrafatto nei luoghi monumentali che gli hanno dato questa visione di grandezza penso a Palazzo degli Elefanti Palazzo dei Minoriti penso al Tarra Villa Scammacca e tanti altri luoghi magnifici ben contrassegnati in un itinerario che può diventare anche una passeggiata turistica di conoscenza ma anche ai luoghi più intimi i suoi colori alla sua velocità che ci raccontano i curatori in questo dialogo con l'artista ci fermiamo per qualche istante di pausa pubblicitaria a linea alla regia oggi Fulvio Ferrauto e Saron Nicolosi ci rivedremo subito dopo gli spot riaccoci 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 nuovamente in studio non ci sono aggiornamenti dunque chiudiamo il giornale guardando insieme il meteo per la giornata di domani domenica il meteo in Sicilia del 13 marzo situazione ancora in evoluzione variabile con abbondanti piogge allerta gialla da parte della protezione civile nelle aree del Palermitano e del Trapanese andrà meglio in Sicilia orientale dove però la temperatura continuerà ad essere fredda così come vediamo nel cartone che segue infatti i venti freddi continueranno a sferzare la nostra regione anche nella giornata di domani bene con il meteo noi chiudiamo questa seconda edizione di Ora Tg prossimo appuntamento con l'informazione su Reitv lunedì alle ore 14 sempre ovviamente sui nostri canali grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata a voi tutti e naturalmente buona domenica a presto a presto a presto Grazie a tutti.